Vabbè, chiaramente sono dissento da quello che ha detto l'amico Luigi sulla questione fascista, ma lui ha voluto chiarire che è un po' l'atteggiamento secondo lui, ma cerchiamo di tenerci sempre nei limiti. Però ecco il concetto che dice Luigi è questo, a che è servito non volere collaborare e quindi non avere accettato la possibilità che venisse fatto l'angar per la manutenzione. Ricordatevi, racconto solo una cosa, un paio di settimane fa, poi era uno dei nostri, mi pare che c'era forse uno dei nostri ragazzi, che doveva partire per andare forse a Milano a Malpenza, è arrivato sull'aereo e dice no scusate, dovete scendere perché dobbiamo fare un lavoro, c'è una spiega che non ci piace. E dice beh allora arrivano i tecnici, no non ci sono i tecnici a Comiso, non abbiamo tecnici di manutenzione, allora la Ryanair che cosa ha dovuto fare? Ha preso uno dei suoi aerei che tiene sempre posteggiato da qualche parte con un tecnico e con i mezzi di ricambio e quindi è dovuto partire da Bergamo, forse anche da Edimburgo, non lo so, per venire qua a riparare quell'aereo. Allora se ci fosse stato un tecnico, un organismo per la manutenzione, tutto questo sarebbe stato risolto in una mezz'oretta con costi molto minori per tutti, ma con lavoro per le persone che ci sono qui. Noi abbiamo tanti giovani che lavorano fuori e che fanno manutenzione, certo è un lavoro difficile, bisogna avere una enorme esperienza, io conosco ragazzi che lo fanno ormai da parecchi anni, che purtroppo se ne vanno ogni sera a Catania, perché questi lavori di manutenzione si fanno di sera, soprattutto gli aerei dormono a Catania e ci sono i manutentori che ogni sera vanno lì e fanno il controllo, a me sembra essenziale, perché io non volerei su un aereo che mi dicono due settimane che non gli facciamo manco un check up. Quindi queste cose sono essenziali, non hanno voluto, io spero che se ci sia un nuovo sindaco, una volta se ci sarà un nuovo sindaco che questa cosa cambi, perché effettivamente l'atteggiamento che c'è stato nei confronti di Crispino su questa storia dell'angare è stato un po' particolare, l'hanno buttata sulla rissa, ma alla fine volevano proprio questo e ci sono riusciti. Io ero presente, quindi vi posso dire che le cose sono andate così. A questo punto cambiamo argomento, andiamo a parlare un po' della nostra politica, parliamo di Ragusa, vi ricordo che parleremo anche di Comiso, abbiamo invitato il candidato Liuzzo per venerdì sera, sarà qua in studio per parlare della sua città, della sua campagna elettorale. Ma a Ragusa oggi si è svolta, apprezzo alla Camera di Commercio, la presentazione di una delle liste che appoggiano il sindaco di Uscente Cassì. Si tratta della lista Partecipiamo con il sottotitolo Ragusa Futura. La lista ha sempre fatto riferimento nel passato a Giovanni Iacono che ha svolto il ruolo di assessore a vari settori, è stato assessore al bilancio, alla pubblica istruzione, al verde, poi non so quante altre cose, perché dobbiamo dire anche la verità, quando ci sono 7-8 assessori in una città importante come Ragusa, ci sono tante deleghe, quindi bisogna fare tanto lavoro. Come vedete la Camera di Commercio è abbastanza piena, quindi c'è una partecipazione nella lista Partecipiamo abbastanza evidente e nutrita. Quindi questa lista appoggia il candidato a sindaco Peppe Cassì è una delle liste forti del sindaco Cassì, quindi non c'è dubbio che la battaglia, come abbiamo detto più volte, si fa molto interessante. Avete visto che sul tavolo dei relatori c'è anche Mario D'Asta, ci sono altri, ma Mario D'Asta mi permette di fare un piccolissimo ragionamento, lui è stato candidato in altre forze, era nel PD nella scorsa elezione, ha fatto il consigliere comunale, quindi oggi ha fatto una scelta diversa. Magari lo avremmo invitato per domani, vediamo se viene per spiegarci anche come mai ha fatto questa scelta. Però noi eravamo lì, sentiamo l'intervista fatta a Giovanni Iacolo e naturalmente al sindaco, perché il sindaco è il faro su cui questa lista si avvia, perché è così. Vediamo.